Il calcio d'estate ha fretta di ripartire e di ridare ai bambini questa preziosa valvola di sfogo. Dal 14 giugno, in collaborazione con l'Ardenno Buglio, si svolgerà infatti il campestivo dell'Alecco Calcio, l'iniziativa riservata a bambini e bambine, nati e nate, dal 2008 al 2015. Paolo Baroli, responsabile del settore giovanile dell'Ardenno Buglio. Quest'anno è il primo anno, per cui dal 14 giugno al 18 giugno, tutti i giorni ad Ardenno, presso il centro sportivo di Ardenno, campestivo che quest'anno abbiamo il piacere di avere l'Alecco. Per cui allenatori professionisti, allenatori con patentino, laureati in scienze motorie, patentino UFA B, UFA C. La collaborazione con voi, come nasce? Siamo partiti dall'anno scorso, noi come società Ardenno abbiamo voglia di crescere e per crescere abbiamo deciso di affiliarci all'Ecco. Perché l'Ecco? Perché l'Ecco è sempre stata la prima società, la più vicina alla provincia di Sondrio. Storicamente, ricordiamo che l'Ecco ha giocato anche in Serie A. Ci sono stati tanti giocatori della provincia di Sondrio che sono passati dall'Ecco. Andrea Lafranconi, responsabile del settore giovanile e attività di base della Calcio Lecco, guarda con fiducia la collaborazione con l'Ardenno Calcio e con la Valtellina Tutta. Quest'anno siamo partiti con questo nuovo e importantissimo progetto, che è appunto il progetto delle Academy, delle società figliate. Abbiamo trovato una interessante disponibilità nella società dell'Ardenno, grazie al Presidente Massimiliano e al responsabile Paolo. E da subito è nata questa collaborazione che si è rilevata interessante per comunque addentrarsi in un territorio che è sia distante che vicino da noi, perché comunque è fuori provincia, ma risulta vicino alla provincia Lecchiese. Quindi abbiamo iniziato questa collaborazione che purtroppo non si è sviluppata a 360 gradi come si voleva per via del Covid, che purtroppo ha limitato le attività in campo. Abbiamo per adesso sviluppato delle attività online con la formazione dei tecnici, quindi l'aiuto a loro nella condivisione di idee di allenamento e di proposte di attività in campo, perché i ragazzi purtroppo hanno dovuto vivere un'altra stagione lontano dal campo e dal calcio giocato. Per questo è nata anche l'idea del camp estivo, quindi con la nostra collaborazione. Un legame molto forte, quello che unisce la bassa valtellina alla calcio lecco, come spiega Francesco Rota, responsabile scouting. È un legame molto forte, soprattutto già storicamente, dal punto di vista dei tifosi, dal punto di vista degli atleti, soprattutto quest'estate con l'arrivo del direttore Fracchiola che ha iniziato un progetto di valorizzazione del territorio, territorio limitrofo. Abbiamo aumentato questo, anzi rinforzato questo legame col territorio, con la valtellina. Abbiamo tanti giocatori nel settore giovanile che provengono da questo territorio e vorrei spendere delle parole perché domenica con l'Albino Leffe ha debuttato un 2003, che è Luca Bonadeo, che è cresciuto nel Sondrio, di questa zona e quindi è un valore aggiunto. Noi speriamo che la sua carriera sia Florida e quindi siamo molto contenti della crescita che ha fatto fino ad oggi, deve sempre migliorare, però questo è un grande valore aggiunto per questo territorio. Ripeto, noi abbiamo tanti giocatori che arrivano dalla valtellina e crediamo in questo progetto, crediamo nella collaborazione, nella filiazione con l'Ardenno Buglio e quindi vi aspettiamo numerosi al nostro camp estivo.